Anche se questa è una situazione un po' particolare perché i ragazzi sono un po' stanchi, ho cercato di recuperare un po' di energia perché stiamo lavorando tanto e quindi stiamo cercando di arrivare più sulla qualità e non più su grossi volumi di lavoro, a livello tattico soprattutto, perché a livello fisico bisogna stare sempre bene e lavorare. Un'ottima squadra, questa è veramente un'ottima squadra, preparata fisicamente molto bene e in un ottimo momento di risultati e di forma è un avversario molto 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 difficile da affrontare. È una squadra che gioca molto bene, non butta mai via il pallone ed è piacevole giocarla, ha degli ottimi giocatori, qualche sorpresa, qualche straniero che si è rivelato ottimo. È veramente una bella squadra, è piacevole vederla giocare. Sbagliato perché la classifica dice tutt'altro, come se guardiamo i numeri, la classifica, soprattutto la classifica, siamo lì a sgomitare ogni santo giorno per tirarci fuori da una situazione che perdi una partita, sei un'altra volta dentro, perdi o pareggi a volte, sei di nuovo dentro. Quindi bisogna sempre stare, l'obiettivo nostro è soltanto uno, è l'unico obiettivo che ci preme da quando almeno io ho preso questa squadra qua. Non dimentichiamo dove eravamo un mese fa, un mese e mezzo fa eravamo ultimi in classifica, quindi a distanza di un mese e mezzo parlare di altro sarebbe, non ce l'ho nemmeno mai pensato, nemmeno le sto a guardare quelle davanti.